questo è il terreno quelli sono i vecchi muri è un rudere quando tuo papà l'ha vista ha capito subito che era quella giusta poi ho dovuto cercare i proprietari e convincerli a vendere si chiama Bar Madrola come? Bar Madrola cosa voleva farci? una casa una casa? una casa? ha voluto costruire una casa qua hai chiesto a me di costruirla mi aveva ereditato un mucchio di sassi io quest'estate sono libero per cosa? costruirla no grazie non ce n'è bisogno io gli ho promesso era proprio lì dove sei tu adesso quando mi ha fatto promettere perché se lui non c'è più per me non cambia niente che non c'è più non c'è più perché